Se chi produce vino quest'anno intona canti di giubilo per la splendida annata che si prospetta per i nostri vini, dato il clima che c'è stato nei mesi estivi, lo stesso clima fa piangere lacrime amare a chi invece in questi giorni sta raccogliendo, sempre che abbia deciso di farlo, le olive. Il flagello della mosca olearia anche quest'anno si è abbattuto sui nostri oliveti, da nord a sud, nessuno escluso. Beh, diciamo la situazione è una situazione drammatica, drammatica nel senso che come nel 2014, il 2016 sarà quello che viene definito l'anno orribilis, nel senso che ci sono state tutte le condizioni ideali per lo sviluppo della mosca olearia, che è il nostro maggiore nemico per la qualità dell'olio. Che cosa intendo? Intendo che quando abbiamo inverni caldi e stati freschi, la mosca olearia che è presente nel nostro territorio ha una riproduzione che se raggiunge determinati livelli può compromettere, può compromettere la produzione di olio extravergine di qualità. Questa è la mosca delle olive ed è la responsabile, appunto, questa è una mosca femmina, quale vediamo nel momento in cui va a deporre e qui la vediamo per riuscire a capire la dimensione. Però è drammatica, ovviamente, per chi produce olio. Gli agricoltori professionali, e nella nostra provincia ci sono tanti agricoltori professionali, hanno un monitoraggio. Sappiamo che questo è il nostro problema. E ora effettuiamo un monitoraggio che inizia dal mese di maggio fino ad arrivare ai giorni prima del raccolto con delle trappole sessuali. Ci saranno solamente, a mio avviso, due ripercussioni. Uno probabilmente sarà il prezzo. In queste condizioni è ovvio che, perché non è un problema, attenzione, pesarese o marchigiano, è un problema italiano, ma seconda cosa, quando il prezzo aumenta e quando c'è una carenza di prodotto nazionale, le importazioni aumentano alla nesima potenza. Consumare olio di qualità è l'operazione più salutare che possiamo fare quotidianamente, quindi, non solo come aspetto gastronomico, ma anche neutraceutico, viste le proprietà antiossidanti dell'olio. E questo concetto all'estero lo conoscono molto bene, dato che l'olio made in Italy è tra i più consumati al mondo. L'olio è un'eccellenza marchigiana, italiana e mondiale. Di fatto, riusciamo a produrre, anche qui, con le nostre produzioni biologiche o non convenzionali, con le tante tipicità e distintività del nostro olio, riusciamo all'estero a portare tanti prodotti. È chiaro che dobbiamo stare attenti a consumare olio italiano, prodotti italiani, guardiamo l'etichetta, compriamo made in Italy perché sicuramente riusciremo a mangiare meglio sia noi che i nostri figli.